Buongiorno ragazzi, senza usare la calcolatrice, stabilire quale dei seguenti numeri è il più grande. Sono espressi in radianti, tangente di 5 quarti pi greco, sen quadro di 5 quarti pi greco, logaritmo in base 10 di 5 quarti pi greco o logaritmo in base 2 di 5 quarti pi greco. Vediamo insieme la nostra soluzione. Intanto ricordiamo alcune regole abbastanza ovvie della goniometria che ci permettono di dire che la tangente di 5 quarti pi greco, grazie alla periodicità della tangente, e poi vedremo anche con il seno, tangente di 5 quarti pi greco è uguale alla tangente di pi greco quarti e questo valore noi lo conosciamo molto bene, è 1. Per quanto riguarda il secondo valore dato dal quesito, il sen quadro di 5 quarti pi greco è uguale al sen quadro di pi greco quarti. Anche questo lo conosciamo e questo vale ben radice di 2 su 2 tutto al quadrato e quindi abbiamo un mezzo. Quindi siamo riusciti a valutare bene i primi due risultati forniti. Consideriamo adesso c e d. Ricordiamo ovviamente che il logaritmo con base maggiore di 1 è sempre una funzione crescente del proprio argomento. Quindi consideriamo un attimino l'argomento, cerchiamo delle maggiorazioni dell'argomento che ci possono essere utili e poi torniamo a metterle come argomento del logaritmo. Ricordiamo inoltre che il logaritmo in base a di a è uguale a 1. 5 quarti pi greco è minore sicuramente di 5 per 4 fratto 4 perché ovviamente pi greco come valore è minore di 4 che è minore di 10 ancora di più. Quindi se applichiamo il logaritmo a questa catena di disuguaglianza abbiamo che il logaritmo in base 10 di 5 quarti pi greco è minore del logaritmo in base 10 di 10 che a sua volta è uguale a 1. Quindi la risposta c è minore di 1, non potrà essere il risultato maggiore. Consideriamo adesso l'ultimo logaritmo. Per ora il vincitore è il valore dato dalla tangente. Consideriamo quindi l'argomento 5 quarti pi greco, però stavolta maggioriamo questo con 5 per 3 fratto 4 e questa frazione a sua volta è maggiore di 2. Quindi poniamo tutto argomento di logaritmo, quindi logaritmo in base 2 di 5 quarti pi greco è maggiore del logaritmo in base 2 di 2 che è uguale a 1. Quindi abbiamo trovato che l'ultimo, il logaritmo in base 2 di 5 quarti pi greco, è maggiore di 1. Direi che abbiamo trovato il nostro vincitore. La risposta esatta per il nostro quesito è la D. Spero che sia tutto chiaro ragazzi. Ci vediamo domani con un altro quesito. Auguro a tutti una buona giornata. Grazie.